ci vediamo su facebook il mio cugino sa aggiustare anche gli orologi a cucù ma per dire il tempo non servono sempre gli orologi come si chiama il tuo cane perché ma cosa perché perché ma perché perché che cosa perché mi hanno detto che tu sai nuotare nel fondo del fondo del mare è vero maestà per respirare il mare che è l'odore dell'estate e pedalare in discesa nelle sere di maggio